Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle Allora, sono andato a vedere The Suicide Squad, come vedete qua di fianco E dovevo parlarne con qualcuno, ne dovevo parlare Proprio perché devo dire che questo film mi ha lasciato qualcosa Mi ha veramente lasciato qualcosa Due cose, in primis Un bel film piacevole, divertente E in seconda battuta, questo No, questo non è un gadget ufficiale del film Ma nel cinema dove vado io di solito, che è il Victoria di Modena Sono soliti fare per i film mainstream dei segnalibri Che poi vengono dati al pubblico in base al film che vanno a vedere Tant'è vero che io ne ho un paio Cioè, ne ho un po' qua Sì, lo so Aspetta, no, questo non vuole uscire Dov'è? Qua Questo non vuole uscire, ma questo lo lanciamo via Perché il film è letame Allora Parliamo, parliamo di The Suicide Squad Il sequel Il soft reboot Perché ufficialmente è un sequel Perché è un sequel di Suicide Squad di David Ayer Perché ci sono tre, quattro cose che lo richiamano Ma non è necessariamente un film da vedere Uno perché è un film montato da merda Cioè, il Suicide Squad di David Ayer aveva delle belle premesse Buttate in vacca da un montaggio agghiacciante Qua è tutta un'altra storia Qua è tutta un'altra atmosfera È un altro stile Cioè, questo è un film Intanto è un film E cosa che il primo non era Perché i primi 20 minuti Era una collezione di clip video Presi direttamente dall'NTV dei primi anni 2000 E tutto il resto del film aveva un po' di situazioni molto Zoppicanti Mettiamola così Questo film parte Prendendo alcuni dei personaggi presenti nel vecchio film Perché abbiamo l'Harley Quinn di Margot Robbie E l'Harley Quinn di questo film è qualcosa di stratosferico Guardando anche i due film precedenti Che sono il primo Suicide Squad E... e... Birds of Prey Due film decisamente dimenticabili Mettiamola così C'è... ovviamente c'è Rick Flagg Che era presente nel primo film C'è Amanda Waller E abbiamo... Captain Boomerang Sono gli unici quattro personaggi Presenti anche nel film precedente Tutti gli altri sono personaggi nuovi Tutti gli altri sono personaggi nuovi Quindi abbiamo Bloodsport di Idris Elba Che in questo caso diciamo che scimmiotta Ma si rende... comunque si diversifica Dal... dal personaggio che aveva fatto Will Smith nel film precedente Abbiamo The Peacemaker di John Cena Devo dire John Cena Bella prestazione Bella prestazione davvero Abbiamo... eh... Figure assolutamente secondarissime nei fumetti Abbiamo Redcatcher 2 Abbiamo Polka Dotman Tinker E... King Shark King Shark veramente vince su tutti Abbiamo veramente una quantità di personaggi esagerata Tant'è vero che quando si apre Quando c'è stata la... La prima locandina E quando hanno presentato E hanno fatto una breve introduzione Di quelli che sarebbero stati I personaggi presenti in questa Suicide Squad Che erano più o meno 18 o 19 La prima domanda che mi sono fatto è Ok Il film ce l'ha in mano James Gunn Quanti di questi rimarranno realmente in vita? Perché di un gruppo di 19 Per un film che si chiama The Suicide Squad Di morti ce ne devono essere proprio a profusione Le teste devono saltare proprio così Pum pum come tappi di champagne E diciamo che Se vi aspettate Un film irriverente Un film divertente Un film splatter Perché ci sono alcuni momenti dove veramente E... Le morti Le morti sono qualcosa di Esagerato Il sangue proprio Schizza Schizza in aria Come veramente Come champagne Durante Alla conclusione di un gran premio di Formula 1 Cioè Ci sono delle scene di morti Di personaggi Dove riderete come dei matti Ok Cioè L'idea è che questo film Prende Cioè Ha realmente a che fare Con Una squadra Suicida Con Una squadra Che Ad ogni passo Rischia la morte Ad ogni passo Ci sono morti C'è sangue E ci sono Li chiamiamo cattivi Non necessariamente Sono personaggi Emarginati Persone che Per Per poter vivere Si sono dovuti dare Alla criminalità Non sempre Non tutti Però Tanti Ok Però Ecco Una cosa veramente Diversa Rispetto al film precedente È che Qua Non vengono presentati Come i cattivi Cattivoni Di tutti i cattivi No Sto cazzo Cioè Sono Personaggi sacrificabili Che vengono presi Gli viene piantata Una bomba nel collo E poi Gli dicono Bene ragazzi Andate lì E fate quello che diciamo E se non fate Quello che diciamo Kaboom Fondamentalmente È questo La storia La storia È qualcosa Di Solido I personaggi Si Cioè Avanzano Proseguono All'interno Della storia In maniera Meravigliosa La trama Prosegue E ad ogni passo C'è un colpo di scena C'è qualcosa Che non ti aspetti C'è qualcosa Di interessante Si va avanti Indietro Soprattutto indietro Si va indietro Nel tempo Magari scoprendo Le origini Di questo Di quell'altro Personaggio Si va indietro Nel tempo Magari Scoprendo Quello che è successo In contemporanea A un altro evento Cosa hanno fatto Altri membri Della Suicide Squad Mentre altri Andavano avanti Quindi C'è una buona gestione Del tempo In maniera Anche Molto divertente Veramente Molto divertente Se avete avuto modo Di Di vedere il trailer Uno dei vari trailer Vi sarete resi conto Perché viene detto In questo trailer Di una parte del gruppo Che va Verso Un palazzo Un edificio Storico Per salvare Harley Quinn Ed è una deviazione Da quella che è La missione primaria Questo ve lo aggiungo io C'è una scena Bellissima dove Cioè Per dire L'assurdità C'è Questa scritta Fatta con il fumo Dove c'è scritto Operation Yotunheim Poi Poi Di punto in bianco La parte di Yotunheim E il fumo di Yotunheim Svanisce E diventa Operation Harley Quinn C'è Ci sono di queste Chicche Le scritte Per i passaggi Temporali Che si formano Con L'ambientazione Con il background Con Le foglie Che si muovono Per via del vento Con Pezzi di metallo Pezzi di Oggetti vari Che Visti Con Un certo punto di vista Con una certa visuale Formano una scritta Poi la camera Si sposta E ci si rende conto Che in realtà È stata solo Una Ripresa Fortuita Mettiamola così Ovviamente voluta Però ripresa fortuita Ci sono tante cose Veramente Veramente Divertenti Veramente piacevoli È un film Con Un bellissimo ritmo È un film Veramente Dove Non si rallenta Mai un attimo Veramente Non si rallenta Mai Va Veramente Con L'acceleratore Spinto A tavoletta Dall'inizio Alla fine E anche Gli stessi personaggi Avanzano Con quella stessa rapidità Con quella stessa rapidità Di pensiero Ecco Talvolta Andando un po' troppo velocemente Diciamocela Diciamola Chiaramente Poi quando guarderete il film Vi renderete conto Del perché dico Andando un po' troppo Velocemente Già sto pensando A quella scena E storia Tornando a morire Da ridere È un film Dove si vede A pieno La mano di James Gunn Perché la mano di James Gunn È veramente visibile È un film In certi momenti Surreale Perché ci sono delle scene Che sono realmente surreali Sia per lo splatter Ma sia proprio Per la messa in scena Di certe situazioni Cioè tu le guardi E dici Ok ragazzi Cosa sto vedendo No vabbè Ma cos'è sta roba Ma Non in maniera negativa Cioè Tu non pensi questa cosa E Dicendo Ok ma cos'è sta roba Cioè ma cosa sto guardando Come dire Sto guardando una roba Veramente fatta Con i piedi No Ci sono delle scelte Stilistiche Delle scelte narrative Delle messe In scena Che sono Qualcosa di Divertentissimo I modi in cui Ci sono gli scontri a fuoco E Le morti Ma veramente Qualcosa di folle La cosa bella è che Come gli altri film Di James Gunn È un film Ieriverente È un film Sboccato Violento Cioè La battuta di Margot Robbie Che si vede già nel trailer Ah Piove Sono gli angeli Che si fanno le seghe su di noi Cioè È un po' il mood Di alcune battute All'interno del film Alcune Non tutte Però alcune battute Hanno questo mood E Non sono neanche Eccessive Non sono inserite Eccessivamente Non sono Troppo forzate Ci sono Ma Sì Non sono fastidiose La messa in scena Dei morti È qualcosa Di Devastante Cioè ragazzi Io vi giuro Ci sono Dei morti Dappertutto Ci sono Delle morti Che vi fanno saltare Sulla sedia Vi fanno ridere Ed è proprio questo Cioè La rappresentazione Della morte Della cosiddetta Carne da cannone Che viene fatta In maniera assolutamente Irriverente Cioè Voi vi sentite Dentro a Un cinecomic Cioè Questo è veramente Un cinecomic E Cioè Vi sentite dentro A un fumettone Perché veramente È Un fumettone Certe rese grafiche Certe situazioni Come quelle di prima Che vi dicevo Delle Delle didascalie Temporali O delle didascalie Di luogo Sono proprio Scelte da Fumettone Sono scelte Grafiche da Fumettone E Cosa ci Cosa possiamo dire E Io vi dico Che Mi sono divertito Parecchio Cioè È un film Veramente Dove sono uscito Divertendomi Come un dannato Cioè Poi ragazzi Cioè Questo Non è spoiler Perché viene detto E viene fatto vedere All'interno Dei trailer Cioè Un regista Che riesce A inserire In maniera credibile Due figure Che sono King Shark E Doppiato Cioè Le movenze Sono quelle di No le movenze Non sono quelle Del fratello di James Gunn Perché lui muove Weasel E Comunque La voce Di King Shark E di Sylvester Stallone Si deve essere divertito Come un dannato A doppiarlo Così come Luca Ward In italiano Si deve essere divertito Come Un pazzo A doppiare Proprio Il Lo squalone Proprio perché Le sue battute Sono Minimal Se avete visto il trailer La scena di Mano E Più o meno Tutte le sue battute Sono più o meno A questo livello Però Cioè Sono inserite In maniera Perfetta Cioè Non infastidiscono Non sono eccessive Quando Ve le fa Sono divertenti Io vi giuro E L'ho trovato Un film Leggero Divertente Piacevole Se dobbiamo Dirlo Seriamente Uno Dei migliori Se non Il migliore Di tutto Questo DC Extended Universe Lo definisco Uno dei migliori Perché a me Per esempio È piaciuto Tanto anche Shazam Perché Nella sua Tipologia di film Cioè Il classico film Da Giffoni Film Festival Era un film Che Mi aveva lasciato Qualcosa Mi ha divertito E Mi ha lasciato Qualcosa Su cui pensare E Non era male Assolutamente no Ecco Questo è un altro film Dove E Si ride Ci si diverte Ci si stupisce E Si ride Anche in maniera Sguaiata Su certe battute Si riflette Si riflette Perché Come i film Soprattutto di James Gunn Ma soprattutto Della troma La casa di La casa di produzione Dove James Gunn Ha mosso i primi passi E Praticamente È Quel tipo di film Con un budget Molto più alto Ma quel tipo di film C'è un film dove C'è dello splatter C'è Ci sono delle battute Ci sono delle battute Irriverenti E Tra le volte anche sconce E Ma Ci sono Alcune situazioni In cui Devi riflettere In cui Devi pensare Alla scena In sé Perché Quella scena È Messa in piedi In una maniera Tale Che ti fa riflettere Su Alcune situazioni Del mondo La povertà La guerra E Gli Stati Uniti Che manipolano Certi altri paesi Certe altre situazioni Cioè La manipolazione Anche Delle Comunicazioni Ti fa pensare Ti fa riflettere A tante cose Quindi è un film Veramente Veramente Completo Veramente Completo In alcuni In alcuni punti Ci si commuove anche In alcuni punti Ci si commuove anche Quindi Ragazzi Se dovete Andare a vedere Un film Fatelo Perché questo Come Fast and Furious 9 Sono usciti In anticipo Rispetto Alla loro data D'uscita Anche per Per via Del Green Pass Quindi sono stati fatti uscire Adesso Anche per Non perdersi Una grossa fetta Di pubblico Legata A quelli che Non sono ancora Riusciti A vaccinarsi O Non vogliono Vaccinarsi Ahimè E Quindi Se avete la possibilità Di farlo E non avete ancora Il Green Pass Fatelo Andatele a vedere Adesso Perché È divertente È un bel film Detto questo Ragazzi Prima di Prima di Finire Top Personaggio Ci sono due Personaggi Che sono Realmente Il top Veramente Il top Uno è King Shark Io mi sono divertito Dall'inizio alla fine Guardando King Shark Ma Secondo me Il vero Personaggio Che viene fuori In maniera Magistrale Maestosa È Polka Dotman Cioè Voi lo vedete Nei primi Minuti E dite Ok Questo qua È una mezza Flenga Questo qua È un personaggio Che non vale un cazzo E muore Questo è un personaggio Che dà Tantissimo In Dal punto di vista Delle gag Dal punto di vista Dei combattimenti Dal punto di vista Delle scene madri È Veramente E non ho usato La parola madre A caso Ragazzi È Un Un personaggio Che da solo Tiene in piedi Cioè Merita Veramente Il costo Del biglietto Polka Dotman Da solo Merita il costo Del biglietto Detto questo Ragazzi Prima di concludere Ovviamente Vi invito A Iscrivervi al canale A attivare la campanellina Ovviamente A seguirci Sui nostri social Sono scritti Sotto in descrizione Nell'info box Vi invito Ovviamente A mettere like Se vi piaciuto Il film Dislike Se non vi è piaciuto Ma soprattutto Voglio sentire La vostra Qua nei commenti Ditemi cosa ne pensate Nel bene O nel male Di questo film O anche Del precedente Quindi Detto questo Ragazzi Vi saluto E andate Al cinema Perché il cinema Ha bisogno di voi Andate